Guardate, questo titolo dovrebbe far capire molto del secolo d'Italia, Le Monde torna a elogiare la Meloni, collezione successi e rende protagonista in Europa, ok? La Meloni, con la foto della gigantografia della Melone. Caro secolo d'Italia, e lo dico a tutti i milionari, certo che Le Monde elogia la Meloni, ci credo, sta facendo tutto quello che dice l'Europa e subina all'Europa, se no avrebbero scritto ben altro. E' amica del presidente lì, francese, no? Non mi terrà come dice Bitten, no? Ora non mi viene il nome, ok? E' amica del francese, del Sarkozy, no? E del Sarkozy. E' amica intima, fa tutto quello che dice l'Europa, ci credo che sui giornaloni, alle Monde dicono che sta facendo bene, perché fa quello che dicono loro, non va contro, ma non doveva finire la pacchia?